Ciao a tutti, io sono Eleonora e oggi vi mostrerò come si usa un'app di modificazione delle immagini che si chiama EditPixio. Per prima cosa, su Google scriviamo il nome dell'app, clicchiamo sul primo risultato e ci ritroviamo sulla home page di quest'app. Una volta qui andiamo su File, su Open, in modo da poter caricare la nostra immagine. Una volta scelta l'immagine da modificare, sulla nostra destra troviamo tutti gli strumenti che ci offre quest'app, come la rotazione, il potere tagliare, questo serve per rotare l'immagine, la saturazione, il contrasto e la luminosità e inoltre tutti questi strumenti hanno la possibilità di essere resettati e quindi cliccando su questo tasto. Ci sono molte... Possiamo trovare molti filtri da applicare, come il filtro seppia, che modifica la colorazione, la temperatura e la scala di grigi. Tutte queste sono resettabili. Quindi, una volta scelto i vari filtri e utilizzato gli strumenti per apportare le modifiche che più preferiamo, clicchiamo sempre su File e salva. Così possiamo salvare la nostra immagine modificata direttamente sul nostro computer. Questo è tutto ciò che serve sapere su quest'app, come si è visto è di facile utilizzo e come si è visto è di facile utilizzo. Vi ringrazio dell'attenzione. Ciao! 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 Grazie a tutti.